Buona giornata da Nico Schiodetto, satellite già stazionario 36.000 km di altezza che ci fotografa un'Italia con il bel tempo, ma osservate questo fronte nuvoloso che dal Nord Africa sta interessando la Sardegna con piogge e durante la serata raggiungerà anche parte delle regioni del centro-sud con stratificazioni, nubi alte e anche qualche goccia di pioggia tra Lazio e Campania. Una bella giornata sulle regioni settentrionali, di fatti qui i cieli rimarranno per lo più sereni o poco nuvolosi. Domani attenzione a questo fronte nuvoloso che lambirà l'arco alpino con qualche piovasco alpi, prealpi, apennino settentrionale, limitrofe, zone pianeggianti, specie di nord-est, delle piogge raggiungeranno occasionali anche il basso Tirreno e la Sicilia per un minimo di bassa pressione sulla Tunisia. Giovedì situazione abbastanza buona, però ancora a ridosso alle zone montuose del nord ritroveremo degli acquazioni. Insomma un po' di variabilità tra sole e qualche sporadico piovasco. Ci sono ottime notizie invece per il weekend perché sembra confermato l'arrivo di quest'anticiclone dal Mediterraneo centrale verso l'Italia. Alta pressione richiamata dall'affondo di un minimo di bassa pressione ad ovest tra Isoli Britannica e Francia, quindi un weekend nel complesso bello con miglioramento significativo anche al nord. Domenica temperature in aumento, saranno temperature molto miti, quasi estive in alcune zone centelli tirreniche. Vedremo se poi durante la prossima settimana questa zona depressionaria si muoverà verso l'Italia con nuovi temporali. Intanto tutti i dettagli li trovate scaricando l'app di Trebi Meteo.